Il Parlamento è una nuova componente, una componente ecologista che si chiama Facciamo Eco. Facciamo eco a quelli che rimangono esclusi, facciamo davvero ecologia, facciamo davvero economia. Questo è il momento giusto perché nel momento in cui tutti parlano di transizione ecologica il rischio di greenwashing, quindi di essere finti ambientalisti, è davvero molto grave. Con grande rispetto perché i Fridays sono un movimento spontaneo, generazionale, prezioso. Hanno fatto quello che noi ambientalisti storici non siamo mai riusciti a fare, riempire le piazze a favore del clima. Però sicuramente questa è una componente che quando parla di lotta generazionale, quindi di difesa degli interessi delle giovani generazioni, pensa a loro, a loro che tengono insieme una richiesta di un mondo diverso con un preciso mandato sulla questione ecologica. Per quanto riguarda il governo, la vostra posizione, voi avete votato la fiducia. Ora la vostra posizione cambierà o continuerete sempre con una fiducia incondizionata nei confronti dei draghi? Noi saremo corretti ma intransigenti. Sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e quali sono gli elementi di discontinuità che vogliamo da questo governo. Sono elementi di discontinuità che riguardano i contenuti e anche i processi che vengono messi in campo. Sicuramente i contenuti di cui ho parlato, la questione ecologica, la cultura, la scuola, ma anche nei processi. Guardate, se noi ad esempio non ci prendiamo cura della nostra pubblica amministrazione e non cogliamo questa occasione per trasformare il sistema pubblico in Italia, beh, abbiamo perso davvero una pagina importante della storia.